Buonasera e bentornati a questa puntata di Talk Sicilia, il nostro programma di approfondimento. Talk Sicilia ha deciso di dedicare tutta una serie di puntate per raccontare la storia della mafia, capire quali sono le origini di questo fenomeno criminale e come si è evoluto nel corso degli anni, quindi un impegno abbastanza complesso, oneroso e anche delicato sotto tanti aspetti perché ci sono verità fino ad oggi non dette, ci sono ancora dei misteri da svelare. E per compiere questa missione così delicata quanto necessaria, come direbbe il filosofo Zygmunt Bauman, abbiamo riconvocato quello che ormai possiamo considerare a tutti gli effetti un nostro super consulente in materia di crimine organizzato. Quindi do per l'ennesima volta il benvenuto a Carmine Mancuso, già senatore della Repubblica, oggi presidente dell'Associazione Vittime Dimenticate di Mafia. Grazie dell'invito, spero di essere sempre utile, mi auguro che possa essere nell'interesse dei telespettatori per conoscere anche la storia della nostra Sicilia e l'evoluzione di questa storia in negativo, ma come si può eventualmente intervenire per correggere quello che significa questa espansione criminale che ci ha caratterizzato nel mondo e che francamente è una cosa che non vogliamo portare tutti quanti perché gli onesti in Sicilia ce ne sono agli osi. La maggioranza dei siciliani fa parte… Sciascia diceva che i mafiosi al massimo devono essere 5 mila, quindi siamo 5 milioni, siamo soltanto una piccolissima percentuale, 0,1%. E peraltro il dato di Sciascia venne confermato qualche anno fa anche dall'allora procuratore della Repubblica, Piero Grasso, che in un'intervista all'IMES raccontò appunto, fece una mappa del territorio mafioso, e disse che comunque l'esercito militare mafioso, cioè l'apparato vero e proprio era sulle 4-5 mila unità, quindi da Sciascia, cioè non cresce e non decresce. Diciamo che è un dato per fortuna stabile, per fortuna tra virgolette, probabilmente poi ci sono sempre i nuovi accoliti, ci sono le generazioni che cambiano, ci sono altre formazioni che si vanno creando e il traffico di suoi facenti è quello che ha dato un problema. Come diceva Gianni Falcone, è fall of the money. Perfettamente. Ma lo diceva anche Giorgio Gennice, lo diceva anche il procuratore, insomma tutti i procuratori. Avevano genti di vivatore. Io però vorrei fare un passo indietro rispetto a quello che hai appena detto, perché tu hai appena sostenuto che noi siciliani siamo conosciuti nel mondo per questo fenomeno criminale, il che è un dato oggettivo, è vero, ma questo è anche il cuore della puntata di oggi, perché nei giorni scorsi, faccio un piccolo preambolo per far comprendere ai nostri spettatori sul web e sulla televisione, ricordo che ci potete seguire sul canale 14 e il digitale terrestre, il segnale di videoregione, Nei giorni scorsi, dicevo, su una rete americana, su un canale online americano, diretto dal giornalista Samuel Hersch, che non ha bisogno di presentazioni, premio Pulitzer, rinviato di guerra in Vietnam, è l'uomo che ha appena raccontato qualche mese fa le modalità con cui è stato fatto esplodere il gasdotto Nord Stream in Europa del Nord. Hersch, dicevo appunto, ha lanciato notizia che rischia di stravolgere tutto il tessuto narrativo della storiografia di Cosa Nostra. Cosa ha scritto Hersch? Hersch ha raccontato di un rapporto segreto, che gli sarebbe stato confidato da un ex funzionario della CIA, un rapporto segreto che racconta dell'interesse dell'allora segretario della giustizia Robert Kennedy, e gli stiamo parlando degli anni Sessanta, quindi il fratello del presidente Kennedy che poi verrà ucciso nell'attentato a Dallas sempre nel 1963, Kennedy che cosa avrebbe fatto? Avrebbe infiltrato Cosa Nostra con degli agenti della CIA e avrebbe fatto scatenare da questo branch della giustizia americana la prima guerra di mafia, la guerra che in Sicilia vede contrapposti la famiglia La Barbera con la famiglia Greco, è tutto il cotè di riferimento di quella strage sanguinaria che poi porterà alla strage di Ciaculli. Quindi, piccolo riepilogo, cosa ci racconta il giornalista americano, anche premio Pulitzer? La prima guerra di mafia in Sicilia sarebbe stata eterodiretta dai servizi segreti americani. Altra notizia che ci dà Hersh è che a guidare l'infiltrazione, e qui dobbiamo mettere dei puntini di sospensione e andare veramente coi piedi di piombo, a guidare l'infiltrazione di Cosa Nostra da parte della CIA sarebbe stato l'onorevole Salvo Lima. Anche lui, secondo quanto riporta Simon Resch, quindi lo dico con tutto il beneficio di inventario, anche l'onorevole Oliva, Lima sarebbe stato parte dell'organizzazione di intelligenza statunitense. A questo punto, parola al senatore Ivan Cusa. Una brevissima premessa. Fermo il restando che noi siamo purtroppo malamente conosciuti come siciliani, italiani in genere, per quanto riguarda la mafia, però noi nella Sicilia siamo la terra di Archimede, Pirandello, Sciascia, e più chiara più ne mette, verga, sarebbe inconmensurabile, ma ci vorrebbe una trasmissione intera per fare tutti i nomi di tutti gli nostri agroindustri cittadini. La mafia. La mafia è qualche cosa che è esistita grossomodo nella cultura, in quello che può essere anche, come posso dire, il modo di essere di alcuni siciliani, però la mafia, se non ci fosse stata, bisognava crearla. Perché? Perché la mafia è stata ritenuta da molti governi, a cominciare dai Borboni e prima ancora di loro, come forza d'ordine, come forza sociale, che teneva a bada le masse. Per cui, insomma, c'è sempre stato qualcuno che con la mafia ci ha lucrato, con la mafia ci ha voluto che diventasse sempre più grande, più potente, più intraprendente, per poter eventualmente avere una sorta di service, cioè di servizio a disposizione, per comprare le operazioni che potevano essere quelle più indegne, quelle più cruente, e quelle, insomma, ci avrebbero consentito... Quindi, sostanzialmente, però, se ti interrompo, la mafia o i sistemi criminali di carattere mafioso come il volto nascosto delle istituzioni per compiere quello che non si può fare legittimamente? Allora, diciamo che una percentuale di criminalità esiste nell'uomo. L'essere umano, insomma, ha una percentuale... Homo hominilucus. Homo silu, perfetto. Che i criminali siano in tutte le parti del mondo, non soltanto in Sicilia, è notorio, ma che la mafia sia stata fatta crescere, altatamente, per certi versi, non sia stata combattuta, sia alzata anche, insomma, segretamente alimentata in maniera da nascondere la polvere sotto il tappeto e perché la mafia serviva per quelle operazioni più sporche che avrebbero eventualmente coperto... Aspetta, però, Carmi, devo interrompere. Fatta questa doverosa premessa metodologica, tu ritieni credibile questa versione che ci racconta Samuel Rorsch? Il professor Lupo, uno storiografo abbastanza, diciamo, conosciuto a livello internazionale e chiaramente uno dei massimi esperti di mafia, non ha mai creduto tanto alla, come dire, a manipolazione da parte dell'intelligenza statunitense riguardo allo sbarco alleato nel 1943, e quindi al rafforzamento della mafia da parte dell'intelligenza statunitense. Però questa volta, commentando l'articolo pubblicato da Erci, ha detto che lo scenario è verosimile. Allora, diciamo che il professore Lupo non è un negazionista, è uno storico. Il professore Lupo, come storico, come insigne storico, assieme anche al professore Marino, Giuseppe Carlo Marino, che è un altro insigne storico, hanno bisogno dei documenti, perché non sono né giornalisti e manco sono, insomma, degli osservatori che poi hanno le loro traduzioni. E quindi è giusto che lo storico si basi sul documento. Però il fatto stesso che il professore Lupo e anche il professore Marino e altri insigne storici abbiano definito, insomma, la mafia una possibile, insomma, organizzazione che è infiltrata dai governi, dagli umani politici, da chi ha bisogno, diciamo, di avere questa copertura, sia possibile, sia verosimile. Ciò vuol dire, insomma, che tutto quello che tu poco fa, insomma, ci hai messo in luce attraverso questo documento che è stato svelato da questo insigne giornalista, è vero. Perché? Perché ci sono delle cose, molte volte, insomma, che sono delle verità inconfessabili che superano la fantasia. Allora, noi dovremmo cominciare dagli albori di quello che è stato, insomma, l'inizio della mafia moderna, la mafia dei nostri giorni, come si vuol dire. Dove inizia il problema? Inizia con lo sbarco degli alleati. Quando gli alleati hanno bisogno di potere, eventualmente, insomma, cominciare, parliamo secondo il governo mondiale, quindi 1943, un anno prima, gli americani cosa fanno? Contattano l'Akiruciano, che era uno dei massimi esponenti di Cosa Nostra americana, di origine siciliana. Il vero nome era Salvatore Lucania, lui era di Lecara Friddi, si era trasferito in America dal ragazzo, si era naturalizzato americano, ma era sempre siciliano e poi aveva cambiato il nome l'Akiruciano, che poi magari, insomma, spiegheremo per chi si chiamava l'Akiruciano, perché una volta scampò la morte, ebbe un colpo di... L'Akiruciano. Fortunato Luciano. Fortunato Luciano, perfetto. L'Akiruciano era uno dei maggiori esponenti, assieme a un tale Lasky, un ebreo, di quelli che erano... Meyer Lasky. Meyer Lasky, era un ebreo comunque, ma non era siciliano, quindi diciamo che anche la delinquenza, insomma, c'è in altre parti del mondo, erano i maggiori esponenti delle famose, delle cinque famiglie di New York, quello, insomma, ad alto consensuale mafioso per quanto riguarda Cosa Nostra. Siccome gli americani avevano problemi, per quanto riguardava la seconda guerra mondiale, di spedire i convogli e farli passare indenni attraverso l'Atlantico, perché i... I commettibili i U-Botto tedeschi li affondavano. Li sorrilavano, perché c'erano i siciliani al porto di New York. Addirittura, diciamo, i U-Botto tedeschi arrivavano sulle coste di New York e quindi li mettevano in situazione. Nella baia di New York addirittura. Siccome c'erano i siciliani mafiosi che li informavano, perché, insomma, i tedeschi erano alleati con gli italiani, gli americani capiscono qual è il problema, contattano l'Aki Luciano e quando decidono di fare lo sbarco in Sicilia, fanno sì che Luciano venga segretamente in Sicilia, contatti i capi mafia dell'epoca, Giorvezini, Gianco Russo e compagnia cantante e quindi, insomma, lo sbarco avviene in maniera molto semplice, perché grazie all'appoggio della mafia, gli americani hanno anzitempo tutte le mappe, la situazione delle truppe italo-todesche, gli armamenti dove erano, i depositi di emulsione dove erano e quindi, insomma, riescono a penetrare facilmente. A questo punto che succede? L'Aki Luciano viene liberato e è chiaro che, insomma, i padroni del vapore diventano gli americani, cioè gli alleati inglesi e americani. Noi molte volte parliamo degli americani, insomma, come se fosse l'ideosa che si macchina, ma dobbiamo mai, insomma, dimenticare e non dimenticare e ricordare che anche gli inglesi hanno avuto pregnanza. Anzi, probabilmente gli inglesi hanno avuto un maggior ruolo e maggiore pressione in Sicilia. Perfetto, indubbiamente, perché l'intelligent service… Anche per, diciamo, tradizione storica, no? Perché quando noi parliamo di CIA, allora, gli antesignati della CIA sono un altro servizio, che si chiama OSS, Office Strategic Service, poi nel 54 diventa CIA, però gli inglesi hanno già l'intelligent service, che era quello che dà i numeri alla CIA, che è quello, insomma, che precede, insomma, la capacità di poter mettere insieme gli elementi, insomma, che servono per poter condurre un vero servizio segreto, superiore ancora a quelli degli americani. Quindi, da un momento in poi, la Sicilia, l'Italia diventa un albergatore di inglesi e americani, ma la Sicilia particolarmente, perché la Sicilia è strategicamente collocata dal punto di vista geografico per quanto riguarda, insomma, il Mediterraneo e quindi il controllo… È il collante fra tre continenti, sostanzialmente, Europa, Africa e Asia, al centro del Mediterraneo. Tant'è che il capo dei servizi civili diventa Charles Poletti, il colonnello Charles Poletti, italiano-americano. Charles Poletti ha come interprete sia Vito Genovese che Vito Ciancimino. E quindi il quadro già si compone alla fine della seconda guerra mondiale. Charles Poletti è regolarmente iscritto all'AP2 e quindi, insomma, anche lui ha il collegamento con questa… perché l'AP2 non è soltanto una struttura massonica siciliana o nazionale, è internazionale, perché l'AP2, insomma, è uno che raccoglie tutti… Quindi, aspetta, Carmi, io ti interrompo un attimo. Questo, diciamo, è lo scenario che tu dipingi. Lo riepilogo per chi volesse, appunto, poi approfondire ancora maggiormente le tue informazioni. Alla fine della seconda guerra mondiale lo sbarco avviene perché c'è un sostanziale aiuto da parte delle famiglie mafiose nei confronti… Strutturalmente, insomma, strutturalmente… Questa donazione, questo comporta una donazione nei confronti delle famiglie mafiose che verranno agevolate dall'intelligenza angolattica. Tant'è, tant'è che nel famoso… Arriviamo, scusa, a questa guerra di mafia che sarebbe stata… Ci arriviamo subito. Tant'è che nel famoso trattato di pace, quando venne firmato l'amministizio, insomma, a Cassibile, alla presenza del generale Castellano e di Vito Guerrasi, Vito Guerrasi era il mercedesso di Lima, l'avvocato Vito Guerrasi, dipendente del Banco di Sicilia, come lo fu Salvo Lima, dipendente del Banco di Sicilia, l'avvocato Guerrasi era, insomma, una delle persone più vicine, è scritto l'AP2 chiaramente, non soltanto all'AP2 ma anche a quella famosa loggia che viene scoperta poi negli anni 70 a Palermo, la famosa loggia Armando Diasi, Verroma 391, dove c'era Torrina, insomma, dico, la storia… C'è tutto un filo logico, insomma, praticamente… Il quadro è intelligence militare anglo-britannica, sistemi criminali territoriali, massoneria come camera di compensazione e quindi, diciamo, la devastazione è completa. Allora, la mafia che perché serve? Serve che, come abbiamo detto, è una forza d'ordine, controllo del territorio, serve per le operazioni, insomma, che chiaramente bisogna fare cruente quando devono ammazzare qualcuno, vedersi Mattei, per esempio, quando bisogna fare l'attentato e quindi occorre che ci sia una forza criminale, non può essere uno Stato, perché l'interesse di uccidere Mattei è quello che è stato, quello dei Cinque Sorelli… Però ti devo interrompere, Enrico Mattei, come Aldo Moro, era finito nel minimo dell'intelligenza britannica già dagli anni 60, con la stessa motivazione, perché il problema era che sia Aldo Moro che Enrico Mattei andavano a scompaginare gli assetti degli altri. Essendo gli interessi… Quindi comunque alla fine, cioè tu stai dicendo una cosa terribile, cioè la mafia ha svolto una funzione geopolitica. Allora, una volta io sono stato… No, dimmi sì o no? No, sì, 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 ma è la mia opinione chiaramente, io non voglio interferire, insomma, non voglio interferire, insomma, con il professor Lupo, con tutti gli insegni studiosi, però diciamo sono le lucubrazioni che eventualmente, insomma, me ne assumo, come posso dire, l'onere di poter… Ma le stiamo dicendo in maniera, insomma, non categorica, insomma, sono… Ipotesi di lavoro, insomma, scenari, insomma, per un film che noi vorremmo fare per dire sulla mafia, giusto? E quindi la mafia come struttura che serve di appoggio e di sostegno per le operazioni cruenti, c'è per avere un responsabile, quantomeno per poter dire… Facciamo un salto quindi leggermente indietro, quindi sbarco degli alleati, controllo ormai delle forze, diciamo, di segrete anglo-americane. Nel 57, nel 1957, proveniente dall'America, degli Stati Uniti, arriva a Palermo, anzi prima a Roma, sbarca a Ciampino e viene accompagnato a Palermo da un insigne ministro, da un ministro della Repubblica, insomma, molto famoso, in quel momento, insomma, e poi viene pure menzionato per continuare a lasciarci portare le ginestre, ma lo dice Pisciotta, solo i giudici, i giudici verrà stracciato, da suo compaesano, lo riceve, insomma, con tutti gli onori, lo porta a Palermo e cosa viene a fare con i suoi accoliti, questo signore che si chiama Gio Bonanno, detto Gio Banana per gli americani, era il capo delle 5 famiglie. Gio Bonanno viene a presiedere gli stati generali della mafia siciliana, all'Hotel delle Palme, dura tre giorni questa convention, dove Gio Bonanno fa presente ai suoi compaesani siciliani, di Cosa Nostra, che la mafia si deve gangesterizzare, cioè non è più la mafia del feudo, ormai iniziano gli affari, iniziano, insomma, inizia il business, iniziano i grandi, grandi traffici, soprattutto di droga, ma di speculazione di rizia, tutto quello che la speculazione di rizia comporta, il controllo dei mercati, il famoso SCARO, insomma, che viene spostato dalla ZISA, viene spostato a dove si trova adesso, perché, insomma, la città non si era allargata, i consumi erano aumentati e quindi il business era enorme, all'altro punto lui gli dice, amici cari, noi dobbiamo, insomma, cominciare a ragionare, insomma, in termini imprenditoriali, non siamo più, insomma, quelli dell'abbigieato, voi siete la mafia che deve diventare, insomma, la mafia... la mafia diventa il più grosso trader di droga del mondo, perfettamente, e questo allora dovrebbe spiegare, è questa, diciamo, la teoria di Samuel Wersch, a un certo punto il governo americano vuole intervenire, abbiamo pochissimi minuti, allora, andiamo subito a Paolo, allora che succede? Succede che si impianta, a piazza San Francisco di Paolo, un confettificio, dove si metteva al posto della mandorla, si metteva la droga e veniva trasferita negli Stati Uniti, i business erano enormi, nel frattempo, insomma, a Palermo... Questa mi mancava, benissimo. Nel frattempo, Palermo, Palermo diventa la capitale, insomma, non soltanto del traffico della mafia, cioè del traffico dei suoi facenti, ma di tutti gli affari illeciti, e Salvolima e il sindaco di Palermo assieme a Ciancimino che è il suo assessore preferito agli enti locali e ai lavori pubblici, si sventra Palermo, c'è il sacco di Palermo, i guadagni sono incommensurabili, incommensurabili enormi... Allora perché, secondo la tesi di Esce, a un certo punto però il governo americano interviene per far combattere le famiglie, qual è la tese? Siccome la mafia diventa troppo potente e alza la tesi, tant'intanto molte volte non capisce chi è il capo, allora gli angoli americani hanno bisogno che la mafia sia controllata, per controllare cosa bisogna fare? Divide e timpera, cioè fare scoppiare una guerra di mafia, si ammazzano fra di loro, poi noi li calmiamo e a suo punto eventualmente aggiavoleamo il reggente, esatto, aggiavoleamo il reggente e quindi si spiega questa famosa guerra di mafia che poi culmina, la prima guerra di mafia cosiddetta, che poi culmina con l'assaggio di Sciaculli nel 1963, 30 giugno di cui insomma trovo che ricordo l'anniversario e che francamente fu una strage voluta, orchestrata e organizzata per quanto riguarda poi i famosi traditori che ci sono sempre. Cioè mentre lo scontro era fra due famiglie, insomma si chiedono con tutti i loro accoliti, il greco da una parte di Sciaculli, non quelli di Croceverde e Giardini, quelli di Sciaculli, quindi Totogreco detto Cicchiettiero e il cugino detto l'ingegnere, l'altro Totogreco e poi a differenza di Michele Greco che sono quelli di Sciaculli, sono quelli di Croceverde, quindi sono quelli di Sciaculli, cosa succede? Succede che sta giudendo altri tolano, si fa esplodere, muoiono sette tutori dell'ordine, la strage, la strage è evoluta, organizzata perché questa strage non è diretta soltanto a colpire le forze dell'ordine ma è a cercare di far capire che ormai questo tipo di mafia deve essere decapitata, azzerata e quindi rifare il gioco con quelli nuovi, tant'è che nello scontro chi paga le conseguenze sono i fratelli della Barbera, i greco sono coscetti a scapparsene, tant'è che Totogreco poi morrà in Venezuela e all'altro punto c'è il nuovo avvento della mafia con i correnesi che pigliano il sopravvento e quindi ci portano poi all'eventuale seconda guerra di mafia laddove poi, con Totogreco e Provenzano, quando gli angoli americani, soprattutto stavolta gli americani... Allora a questo punto, diciamo, ora ci hai spiegato esattamente come potrebbe... Il mio punto di vista... Cioè, quale potrebbe essere stata la dinamica? Ma se, diciamo, la prima guerra di mafia è stata, come dire, coordinata dall'esterno ovviamente ricorderei a tutti che poi questa cosa scatenò dei contrasti fortissimi, violenti anche negli Stati Uniti e portarono alla morte sia di Robert Kennedy sia del Presidente Kennedy con scenari ancora lì del tutto, come dire... Ancora da chiarire Da chiarire, perché là c'era il ruolo di Sam Giancana Anche Gio Bonanno, perfetto Gio Bonanno è quello che poi, insomma, ispira Mario Puzzo al film di Padrino capo delle Cinque Famiglie, quindi potentissimo Puzzo va da letto con attenzione perché in realtà lui racconta una traccia di un'evoluzione storico-sociale della mafia che poi passo per passo si realizza Puzzo fa anche capitoli sui sociologia mafiosa e poi Puzzo è anche da leggere sulla storia di Salvatore Giuliano lui la romanza Poi ci arriveremo con un'altra puntata su Salvatore Giuliano perché non me ti abbiamo costretto, come dire, a essere il nostro super... Una cosa che volevo aggiungere negli ultimi istanti è, dicevo, perseguire le mafia, servono i traditori, servono gli infami Chi sono gli infami del momento? Quelli che fanno il doppio e il triplo gioco sono Tommaso Buscetta, sono Cavataio, Michele Cavataio che poi muore nel saggio di Lazio e poi insomma c'è Dulcis in fondo, insomma, un terzo elemento che è Pietro Torretta, il boss dell'uditore che si voleva infilare Ma stiamo parlando comunque di tre figure dell'entourage mafioso legate a doppio filo con il mondo italo-americano Esatto, infatti Buscetta, Torretta chiaramente, insomma, Pietro Torretta insomma c'era uno degli americani, lo stesso dica sì per quanto riguarda Buscetta E Cavataio però mi sfugge un po' Cavataio era un po' il cavallo pazzo Perché Cavataio è un incontrollabile, Cavataio non ha padroni Cavataio, insomma, è un chiedere spietato uno, insomma, che infatti quando lui muore, insomma, c'è addirittura muore per caso perché la guata che fanno per Cavataio ci fanno cinque persone fanno i corlionesi con in testa provenzano Il colpo di grazia E lui riesce a reagire e ferirli ne ammazza uno Ammazza un Bagarella Ammazza un Bagarella Ammazza un Bagarella Si inceppa la pistola, purtroppo, insomma, non può più sparare E quindi poi ne paga le conseguenze E lì nasce la leggenda di Binnu Provenzano Utrattore Utrattore, sì, 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 perfetto Perché poi, insomma, è lui che lo finisce a colpi prima di Buccini E poi riesce a prendere la pistola e sparargli Perché Cavataio era imprendibile in controlla Mentre Buccetti è sempre stato un infame per eccellenza Che poi passa per eroe, lo fanno diventare In virtù poi, insomma, sono una cosa Probabilmente ha dato un grosso contributo, come dire, alle indagini Ma il contributo Io capisco, ti ho visto anzimare Ma questo sarà l'argomento della prossima puntata Però diciamo, il contributo che lui dà È un copia in colla Io devo fare una domanda Sempre come tua sensazione personale Perché il tempo sta scavendo Ma secondo te, visto che comunque la Sicilia ancora oggi Per tanti motivi È, come dire, ha un ruolo strategico Nella geopolitica internazionale Un esempio su tutti I droni che pattugliano il Mar Nero E le coste del Lucanese E sono su Lucanese Partono da Siconella Ma secondo te, ancora, questa pressione dell'intelligenza statunitense e britannica Sulla Sicilia Nelle dinamiche politiche, sociali e economiche Ancora c'è, è così forte, è percepibile Allora, tu hai messo il dito nella piaga Allora, diciamo che con tutti gli annesi E connessi Con tutti gli errori che ha commesso Insomma, c'è il fatto Insomma, nessuno poi viene a lodare Insomma, c'è il personaggio che sto per nominare Che è Bettino Crax Nel momento in cui Bettino Crax osa O forse agli americani Con Siconella Bettino Crax si viene fatto fuori Perché poi abbiamo Cominciamo a leggere sul riformista Che anche è manipolita L'operazione è stata manipolata Perché quello dice Colombo Gerardo Colombo In una prefazione del libro che fa Scusa, io per più curiosa puntata Perché il tempo è a nostra disposizione Sì Allora, ti faccio una domanda a bruciare Però mi devi rispondere Sì o no L'Italia è ancora oggi una colonia L'Italia, come diciamo Un celebre scrittore È un alberga ore Per quanto riguarda Insomma, gli interessi americani L'inglese un po' meno Ma soprattutto americani Perfetto Io ringrazio Carmine Mancuso Per il tempo che ci ha dedicato Ovviamente una puntata Da Pelle d'Oca Qualcuno probabilmente Si arrabbierà Perché come dire Abbiamo toccato fili scoperti E argomenti molto molto delicati Ma Piero, ribadiamo Sono le lucubrazioni Perché non siamo le storici Daranno fastidio a parecchie persone Ti ringrazio per la tua disponibilità E per la precisione delle cose che racconti Ringrazio chi ci ha seguito E ci vediamo alla prossima puntata Di Talk Sicilio Addiavolendo